Questo è stato un anno che ha visto chiudere cinema, musei, teatri, centri di aggregazione, che ci ha privati della libertà di fruire della cultura, che ha svuotato vie, piazze, strade. Ora immaginati in una notte d'inizio estate di riaccendere una città, di farla partire dalle torri fino ai volti delle persone. Immaginati poeti, artisti, musicisti che illuminano questi spazi, che accendono attraverso una piccola rivoluzione i nostri luoghi. Noi crediamo nella giovane creatività, nelle visioni degli artisti e dell'associazione del nostro territorio. Vogliamo poter tornare a dar loro un luogo in cui realizzarli. In questa decima edizione di Notti Lucente, sabato 26 giugno a San Gimignano, parleremo appunto di giovani, di adolescenti. È con loro e per loro che vogliamo innescare una piccola rivoluzione. Notti Lucente vuole essere tutto questo, ma per farlo abbiamo bisogno della tua donazione. Sostieni la nostra campagna su Eppela per dare spazio ai giovani, agli artisti e al pubblico, per ridare l'infa all'arte e alla cultura. Sostieni la cultura, sostieni Notti Lucente. Grazie a tutti.